bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono azzel99 e oggi farò vedere ehm...Pokemontover Defense Hatchad, New Game, non mi chiamo Shattosh, e mi chiamo come mi devo chiamare questo gioco lo troverete in inglese che scegliamo tra Bulbasaur, pokemon tipo erba, Squirtle, pokemon tipo acqua e Charmander, pokemon tipo fuoco, noi scegliamo Charmander, yes no in realtà non lo teneremo, la versione la scegliamo, la versione rosso fuoco, perchè quello non è il nome, sto in mod, Charmander, alboratore di York, comunque io una volta ho lasciato il mio Charmander, vabbè, lo dobbiamo trasferire da qua a qua e mettiamo Start, ah io mi invoce, papà, primo sono venuti due milioni a 150 mila abitabili, io un rato da non lo prendo, oh ma questa è d'occhio, non c'è non metterebbe, oh lì c'è, oi vi spazzate in me, no no, ma è sempre due, ma quando andiamo a volerlo, ma che è successo? che è successo? ha avuto il mio castello, papà vende tanto stura, io mi sono cagliazzata in dolce, scusate per le chiacchiere ma è mia mamma, mia mamma, mio papà e mio fratello, aspetta le salvo, prima operazione è 15, abbiamo salvato, aspetta faccio un, no, mettete un attimo Mr. G, mettiamo un G codice, mettiamo C, M, D, James, G, questo, capite che è, il buono dell'ambadà? un trante, un, ecco, vabbè però, quello è un trucco del fuoco, facciamo usare il nostro c'è al mandare al 10, ragazzi, faccio, alleno il mio, pochiemon al 14, ma ho fatto, ma all'improvviso sta passando al 15, te ti metto solo un po' per sicurezza, vabbè comunque l'ho allenato al 15, al 16, al 17 si evolverà, e poi si è rotto in 1, percorso 1 sarebbe. lo van 3 data, ufficbe bossaa si ti metto solo un po' per sicurezza. house Philippi sono adupo imparere allora palla c'è la si stai da 35 35 però hai dovuto mettere un po' il schiacci perchè voglio un pidgey un pidgey che si vuole un pidgey un pidgey un pidgey ma non lo fai ma non lo fai ma non lo fai faccio salire lui al 2 e al 16 adesso io l'ho fatto aumentare al 16 e si stava rivolvendo perchè avevo detto che faccio aumentare lui al 2 e al 16 e si è voluto 15,49 ma perchè cacca 15,49 aspetta mi tiriamo un po' dalle palle per piacere e ti metti un po' qua dietro tu sai il 5 ah se ma puo' che cosa se c'è un pidgey lo sai appunto di mettere prima posizione come lo st si e sono indeciso tra poi l'ultima è per tutte quelle vendute certo, ora è per ogni torta, quando ho guadagnato e per tutte quelle vendute 7 virgola questo che ti è tenuto e ragazzi la parte si conclude qui e ciao